Come lavoratore della Polizia Provinciale perché non c'è assolutamente chiarezza sulla fine che farà il nostro corpo che si occupa prevalentemente di caccia pesca ambiente, questioni secondo noi soprattutto in una regione urbanizzata e con molti problemi e con un'alta densità di cacciatori e di cavatori e di speculatori penso che questi argomenti soprattutto alla regione debbano interessare e deve prendere delle posizioni per sapere il personale che attualmente opera che cosa andrà a fare, si spera di non andare a fare i vizioni urbani visto che non è una questione così determinante fare le multe sulla strada piuttosto che intervenire in campo ambientale che è molto più delicato, grazie.